quello che volevo fare poi oggi con voi era andare a rifinire diciamo questa dummy su un piattino eccolo qua rivestito con la nostra pasta di zucchero luxury oro dopodiché e andare a creare l'effetto raffle, quindi che cosa facciamo spostiamo un attimo la nostra torta, ora qua il tutto il bancone è sporco però è uguale, con la pasta di zucchero oro andiamo a stenderla anche questa la pasta di zucchero oro contiene moltissimo burro di cacao, quindi all'inizio tende a screpolarsi un po' ed è abbastanza dura non vi preoccupate, magari ammorbiditela in piccoli in piccoli pezzettini ok? con un coppasta andate a crearvi dei cerchi quanto grandi anche lì dipende da quanto voglia avete di lavorare nel senso che dal mio punto di vista più piccoli sono e più belli vengono ok? però ovviamente se fate cerchi piccoli dovete farne veramente tantissimi altra cosa il mio consiglio è di prepararveli prima i diciamo i volant va bene? li preparate li fate un pochino asciugare e successivamente li andate ad applicare quando applicate quando fate una raffle il mio consiglio è comunque di rifasciarla la pasta di zucchero perché così pasta di zucchero su pasta di zucchero si si attacca meglio basta un pochino di acqua un po' di colla alimentare altrimenti impazzite un po' di più ok? adesso io ne mettete su un tappetino per fiori scusate e con il boltool andate a passare il contorno più lo passate più il contorno verrà vedete tutto come si dice ondulato e ovviamente maggiore sarà l'effetto una volta fatto questo andiamo a piegare su se stesso in questo modo ok dopodiché tagliamo dopodiché riprendete la vostra torta ecco io ora l'ho fatto su un piattino ma voi immaginatevi una torta a due piani dove il piano sotto è completamente in raffle e il sopra invece è effetto cracklé secondo me verrebbe una cosa notevole con un po' di colla alimentare non fate altro che mettere appunto lì e mettere lì e con l'aiuto io utilizzo questo perché se no se ci vado con le mani con le mani calde che ho rovino tutto non fate altro che andare a posizionare i vostri volant altro motivo per cui consiglio sempre di fasciare la pasta di zucchero cioè scusate di fasciare la torta dello stesso colore con cui state realizzando i volant è perché se per caso in un punto non venisse particolarmente cioè rimanesse un buco non si nota invece se sotto c'è il polistirolo o comunque una base di un colore diverso ovviamente si vede si vede subito ok e continuate così per tutta la per tutta la vostra torta guardate che carina che è venuta cioè che viene ripeto fasciata tutta fatta tutta per benino a me l'effetto piace piace tantissimo eccomi io ho i miei capelli bagnati che dite vi è piaciuto? a me è piaciuto mi sono divertita un sacco ve la prendo ve la faccio vedere che cosa abbiamo fatto abbiamo realizzato un effetto craclé e abbiamo creato un effetto ruffle per la per il piattino ok spero che vi sia piaciuta questa cosa se avete domande cose che vi piacerebbe vedere scrivetemelo mi raccomando nei commenti sia sotto la diretta che sul nostro canale youtube bimagenta e io cercherò di organizzarmi per accontentarvi tutti ragazzi buona giornata alla prossima baci baci ciao 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 ciao